ma buonasera buonasera a tutti dalla voce di chi non ha voce io non sopporto l'approccio utilitaristico pensi deve servire a qualcosa parli deve servire a qualcosa dialoghi deve servire a qualcosa ami vivi un amore deve servire a qualcosa fai sesso deve servire a qualcosa deve essere propedeutico a qualcosa finite la di vivere le cose in questo modo questa è la strada verso l'infelicità questo significa non essere persone significa non essere persone ovviamente sviluppate mature partiamo dall'amore l'amore nella testa di molti purtroppo da sempre nonostante non siamo più nel pre medioevo viene visto come un qualcosa che ti deve permettere di sistemarti e beh l'amore alla fine l'amore in soldoni e cosa serve è trovare la tua donna ideale il tuo uomo ideale fare una casa fare le figlie sistemati così da solo non sarai mai soprattutto quando sarai vecchio l'amore serve a questo magari anche a fare figli appunto no assolutamente l'amore non serve a niente l'amore non ha uno scopo l'amore si manifesta e basta non ha un fine ok l'amore non deve portare a qualcosa ma che amore è se poi non andate a vivere insieme se poi non fate figli se poi quel po ci può anche essere ma non è il fondamento dell'amore e se voi non capite questo e cercate sempre lo scopo finale ma devo trovare l'amore per è molto probabile che non abbiate capito niente cosa sia l'amore e non sappiate amare quindi nella vostra vita non dite che l'importo che molto importante è l'amore che l'amore tra le cose più importanti perché voi siete una dimensione alta rispetto all'amore chiamate amore un qualcosa che non è intanto che legato ad un certo tipo di utilitarismo in questo caso relazionale quando si dialoga con qualcuno si fa un discorso un dibattito molte persone dopo un po sbottano impazienti sì ma alla fine questo discorso cosa porta quindi in soldoni conclusione non c'è per forza una conclusione quando si dialoga certo se stiamo parlando di domani dove andiamo ok alla fine stabiliremo dove andare dove non andare ma non è che dialogare significa solo parlare di cose per cui c'è la risposta finale anche perché i dialoghi davvero seri sono dialoghi in cui ciò che conta è la domanda la problematizzazione la risposta magari non c'è o non è non è immediata magari ci vuole una vita per avvicinarsi ad una risposta e non è che quel qualcosa è stato inutile improduttivo quell'ora passata dialogare se non si è arrivato ad una soluzione ok ad una conclusione non vuol dire che è speccato del tempo così come per quanto riguarda l'amare se non arrivi al nucleo familiare con i figli uoli non vuol dire che è stato un amore in vano è stato un amare l'amare non può essere mai in vano se si parla di amare perché se si parla di un qualcosa che voi chiamate amare ma non lo è affatto il discorso è un altro stessa cosa dialogare non può essere mai in vano pensare non può essere mai in vano pensare veramente non sto dicendo dove voglio andare stasera o che vestito mettermi chiaro che se sto pensando a che vestito mi metto prima o poi concluderò qualcosa non rimarrò a continuare in eterno non potrò rimarrere in eterno a pensare cosa mi metto cosa non mi metto cosa mi metto cosa mi metto ma sto parlando di altro ma chi è abituato solamente al pensiero al dialogare solamente per questioni frivole quotidiane no poi quando parla di un qualcosa di più importante di più serio no di più radicale considera fumose quelle parole ha tante chiacchiere poi in soldoni qual è il risultato non c'è ma questo non significa che sia stato inutile dialogare bisogna imparare ad amare così come bisogna imparare a pensare e capire cosa vuol dire veramente perché è importante ma anche il sesso quindi una cosa magari così io definirei meno fondamentale per un mondo migliore il sesso il sesso è bello piacevole e viva io sono una persona molto passionale però metterai se dovessi fare una gerarchia pensare ed amare come cose molto più importanti quindi prendiamo il sesso a cosa serve il sesso? beh chiaro io faccio sesso con una donna pervenire se sto due ore con una donna o se sto due ore con un uomo e poi alla fine non arriva l'orgasmo la serata è andata storta e ho fatto cilecca quello vabbè se non ti si erige il pene o se lei non è abbastanza lubrificata e quindi è andata male è andata male ma è che come una persona hai vissuto delle fantasie hai toccato un corpo altrui non è che lo scopo di un rapporto sessuale di un approccio anche sessuale con una donna o con un uomo deve essere finalizzato al fatto che poi ci sia l'orgasmo e se non c'è non è che la serata è andata male ma come cazzo vivete le cose anche il semplice sesso ma se io sono letto con una donna mi piace la bacio ci si tocca per carità può anche capitare l'orgasmo ma se non c'è non è che ho spiegato del tempo ho trascorso dei bei momenti piacevoli in questo caso di legate al godimento con una persona non è che il godimento è solo nel venire è piacevole anche tutto quello che c'è prima quindi persino anche in una cosa così tranquilla, leggera come il sesso lo vivete malissimo quindi cercare di abbandonare la logica dell'utilitarismo in quel senso lì il pensare, l'amare, il copulare non devono servire a niente in particolare e proprio perché non servono a niente o non dovrebbero servire a niente se si è maturi e si vivono queste cose nel modo giusto proprio per questo proprio perché non servono a niente non dovrebbero servire a niente proprio per questo allora soprattutto il pensare, l'amare servono a tutto ma potrei anche metterci il sesso perché al di là delle cose più importanti o meno importanti più vitali o meno vitali quindi quando tu entri in una certa dimensione tutto ciò che fai è propredeutico ad un qualcosa che è vissuto in maniera sana e quindi tutto ciò è funzionale ad una vita sana vivi il sesso in maniera sana vivi i rapporti con gli amici in maniera sana vivi i rapporti con le persone che ti piacciono fisicamente in maniera sana vivi il dialogo con gli altri in maniera sana vivi tutto più sano e quindi quando un qualcosa non serve a niente serve, non è servile a niente anche la parola non serve io ti servo, no? ottica di, diciamo, di reverenza e schiavitù quando una cosa non serve a niente ed è vissuta non perché necessariamente serva a qualcosa allora vuol dire che serve proprio a tutto un abbraccio, commentate, pollice in su e condividete oggi volevo essere breve se ti piace il mio canale e vuoi che continui per sempre a fare video puoi sostenermi aderendo al mio Patreon con donazioni a partire da un euro al mese per farlo è semplicissimo basta aprire la mia pagina Patreon cliccare in alto a destra su become a Patreon attendere pochi istanti e scegliere se donarmi 1, 2, 5, 10, 20 o 50 euro al mese il gruppo Whatsapp degli Eroi delle Eroine e altri contenuti esclusivi ti aspettano per aderire o per saperne di più trovi il link in sovraimpressione oppure nel primo commento grazie a tutti